ok ragazzi sto osservando alias guarda qua guarda qua diego guarda qua che è? che è? si vabbè dai già mi stai tossando diego ti devo far vedere un trucco dai noi siamo i più forti d'italia diego tu non hai capito ancora i più forti di che? puoi mandarci pure dizko guarda te li sfido davanti ti sfido dizko e kygoth 2v2 ma tanto jack secondo te ce li fa sfidare veramente perchè io li ho battuti da solo ma non è vero non è vero ragazzi io vi ricordo che se volete risparmiare sui vbucks le skin le playstation card xbox live card e giochi vi lascio in descrizione instant gaming raga costano molto meno del normale quindi fidatevi ci sto risparmiando tantissimi soldi ragazzi guardate oggi con chi sono in lobby alias play il pro convinto e jack il mio ex pupillo che è passato dalla parte oscura di alias che ormai sta diventando anche lui un pro convinto io direi che oggi c'è da divertirsi comunque raga io vi avevo promesso a 15.000 like di fare una sfida 1v1 con jack ok non l'ha accettata non l'ha voluta fare non so perchè perchè probabilmente ha paura e mi ha detto anzi che vuole sfidare alias play 1v1 per farmi vedere come si gioca ehi convinti si si c'erano mutati un attimo perchè stavamo parlando al telefono proprio di te comunque dici ah che stavate dicendo niente niente dici dici dai ok allora domanda importante jack perchè hai rifiutato la mia sfida dell'1v1 perchè hai paura non ti preoccupare diego lo so io perchè hai rifiutato alias dimmi la verità perchè ha paura di farmi un curaccio ahahah ommè che hai sentito che cosa ha detto ha paura dai ma smettila diego per favore ragazzi oggi ti faccio vedere come si gioca già di solito quando registro con alias mi esco pazzo oggi sono due raga se non esco pazzo oggi voglio una statua raga voglio una statua comunque andiamo in creative ok ma perchè volete sfidarvi uno contro uno così ti facciamo vedere come si gioca realmente come ci si sparra senza trucchi come si builda senza trucchi perchè io buildo con i trucchi ovviamente non dosare perchè tu sei quello che dosso iniziamo malissimo raga lo sto neanche ascoltando lo sentite un post produzione lo state sentendo voi cosa sta dicendo è pazzo ok ragazzi sto osservando alias guarda qua guarda qua diego guarda qua che è? che è? si vabbè dai già mi stai tossando diego ti devo far vedere un trucco ma non è vero fammi vedere il trucco di solito non fa così fammi vedere il trucco fammi vedere il trucco voglio vedere che trucco è ma che è ti sei chiuso dai diego no no mi stai tossando diego c'è qualcosa che non va diego diego c'è qualcosa che non va dai diego dai ma cosa? raga io ne esco pazzo io ne uscirò pazzo raga lo faceva bellissimo ma vabbè andate fatemi vedere come si gioca forza fatemi vedere come si gioca alias io ti vedo ma che cosa sono 90 questi alias ma già ci ha preso un hit allora io vi ricordo una cosa ma grazie guarda come mi sta tossando guarda come io ho la connessione schifosissima riesco a gestire i server dell'epic games mamma mia mamma mia cosa? ma cosa sta dicendo? mamma mia bravo diego bravo sono pazzi sono veramente pazzi dopo gli darò il numero del manigomio mamma mia mamma mia ragazzi dopo gli darò il numero del manigomio a tutti e due cioè già che non era così già che sta impazzendo a poter stare con alias stai laggando anche tu? ragazzi non è vero che laggano non stanno uuuuh guarda come è tossa Diego ma non è vero mamma mia mamma mia mamma mia si ma grazie guarda che io lo conosco mega Diego non va così lento hai capito neanch'io mi sto passando per davvero andate con il secondo round va dai dai noi siamo i più forti d'italia Diego tu non hai capito ancora i più forti di che? puoi mandarci pure d'Italia puoi mandarci pure Diz guarda te li sfido davanti ti sfido Dizko e Kygots 2v2 ragazzi basta Dizko o basta solo Kygots per distruggermi tutte e due paura a dirlo allora ragazzi state scherzando spero su questo almeno no no ma che sei ma sono troppo convinti i due sono più convinti dell'uno no aspetta la cosa che mi fa ridere è perchè hanno paura hanno paura hanno paura paura un sacco hanno hanno paura un sacco allora ma tanto Jack secondo te ce li fa sfidare veramente perchè io li ho battuti da solo figura ma non è vero non è vero perchè devi dire guardate che bugiardo non è vero ci hai preso le pizza tutte e due eh non è vero alias va bene va bene ragazzi avete visto il video che poi mamma mia si non è vero raga che bugiardi sono bugiardi raga sono bugiardi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma Jack ma tu la sai la cosa Jack ma tu la sai la cosa che io ho sfidato alias solo con la desert eagle lui con tutte le armi e nonostante avessi solo grazie 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 con le aimbot siamo tutti forti siamo ragazzi non li voglio più sentire allora io ho sfidato alias utilizzando soltanto la desert eagle lui aveva tutto pompa AR cecchino aveva 200 di vita io solo 50 sono riuscito a picconarlo per dirvi il livello livello ci stai esattamente dossando ma perchè vi sto dossando alias comunque nonostante cioè sentita alias nonostante lui sia il suo maestro nonostante siano amici nonostante siano più convinti pazzi le scuse le devi sempre inventare quando perde è lo stesso eh si va bene va bene 3 2 1 via forza ma che dossa ragazzi come lo doss ma come che vuol dire ma neanche so che significa dossare mettere le cavolate questo ragazzi perchè si deve mettere le cavolate se sei bravo sto laggando non mi builda diego ma non sei capace no non ti builda si si ma tu che dici a omega non sei capace ma per favore se non sono capace io se mi hai allenato te non sei capace manco te dai ma diego ma non dirle dai ma per favore questa è una bella osservazione questa è una bella osservazione guardalo diego guarda come si fanno i 90 guarda li faccio più veloce io li faccio più veloce io ti ha pure bloccato alias si diego ti ha bloccato pure alias di te diego si va bene ti fa pure più veloce alias si va bene ragazzi ma per favore ragazzi vi devo dire una co oh 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 qui questo è embot è grande maes ma come è grande se lo avessi fatto io avresti detto che era l'embot e mo lui grande e bel edit Maron Ma cosa stai dicendo Questo è il vero sparo Sei proprio visto La reazione Dello sparo Io vi lancio una sfida Niente più Io contro Jack Ma io E uno di voi Che utilizza il mio codice Supporto al creatore Quindi se lo utilizzate Inviatemi uno screen Su Instagram Cercherò di rispondere a tutti È quasi impossibile Se siete più di 6.000 Però prenderò Uno di voi raga Uno forte Ragazzi Dovete essere forti E affronteremo questi due pazzi Io e uno di voi Contro Jack E dai Io la dobbiamo far pagare raga Vi dobbiamo far vedere Come si gioca Ci state? Ci state che si Non vi ho sentito Perché ho detto una cosa Raga A 20.000 like Vi sfideremo Io e un mio iscritto Ok? Cosa? Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora Sì vabbè Non vedo l'ora Chi sta vincendo Tra di voi comunque? Io ho vinto io Sta vincendo lui Non avevo dubbi Non avevo dubbi Non ti preoccupare La cosa che non capisco io Omega È questa Che puoi anche Essere non d'accordo Però dimmi come la pensi Nel mio canale Abbiamo fatto 1v1 Giusto? Raga vi dico una cosa Di quell'1v1 Andavamo 6 volte più veloci Abbiamo pareggiato Ragazzi Quell'1v1 Non è vero Ha vinto Alias Ma stracciando Omega E tutto ciò Perché si erano messi d'accordo Sentite quante barone È falso Alias Alias ha detto A Omega A Jack Di giocare piano Per farlo vincere appositamente Quindi raga pensate quanto è falso Ci ha fatto credere a tutti Di aver battuto Omega Quando Omega non ha giocato Comunque io so una cosa So una cosa Ragazzi io so una cosa Di quella sfida Che tu Jack Jack tu non hai giocato apposta Ancora eri il mio pupillo Tu non hai giocato apposta Perché me l'hai detto te Che non hai giocato apposta Per far vincere Alias E verrati messi d'accordo Come no Ho le chat Ragazzi Ragazzi ho le chat Ragazzi ho le chat Non è vero Sì vabbè sì L'hanno detto tutti nei commenti Ragazzi se avete visto quel video Ditelo Ragazzi tutti nei commenti Jack faceva soltanto Ok Jack Utilizzava soltanto il cecchino Non cercava di fare solo Mamma mia come laggo Mamma mia come laggo Ma che laggi Ti lagga il cervello Sei scarso No ti lagga Cosa Stai veramente tossando Diego stai veramente tossando Sì vabbè sì Omega facciamo l'ultima Facciamo l'ultima Ma andiamo a dormire a questo A questo ragazzo Per favore dai Aggiungi alla denuncia Dalla parte mia di Diego Per favore Eh no Quella la devi fare tu La devi fare tu Devi vedere No regà Questa mi mancava Perché sei piccolo Questo mi mancava Questo mi mancava Questa cosa mi mancava Ragà Già mi mancava Guarda come cado Guarda come cado Veramente Un'altra denuncia Un'altra denuncia Va bene Tanto non me ne è arrivata una Quindi parlano Guarda 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 Ci hai preso le pizze Ah ragazzi Ora ascoltatemi un attimo Bene Importante Segnatevi questo numero Segnatevi questo numero Allora 337 337-89-90-854 Segnatevelo È importante Chiamatevelo Puoi aiutarvi Puoi aiutarvi Raga Che cos'è? È il numero di un Di un ospedale psichiatrico Ragazzi 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 È un numero di un manicomio Gli serve Ragazzi Ci serve Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Fatemi sapere che vi dicono Se c'è posto Fatemi sapere 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 se c'è posto Raga 20.000 like Io uno di voi contro Alias e l'altro Mamma mia